Buongiorno, in questo video parleremo del problema del narcisista, ovvero la sua allucinazione, il passaggio quindi dall'onnipotenza alla disillusione. Partiamo dal concetto importantissimo del rapporto madre-bambino. Il rapporto madre-bambino costituisce la base per lo sviluppo della personalità. Questo rapporto si consolida nei primi mesi di vita ed è la prima e più importante relazione dell'uomo. Poi piano piano il bambino deve gradualmente staccarsi dalla madre, deve interiorizzare la relazione con la madre per svilupparsi in modo sano e armonico. Quindi il bambino dovrà passare da una condizione paradisiaca di illusione nella quale ha tutto, ad una condizione di distacco dalla madre chiamata appunto disillusione. Illusione e disillusione sono proprio i due opposti, le due facce della medaglia. Questo tema illusione e disillusione si collega a ciò che Freud scrive come passaggio dal principio di piacere al principio di realtà. Alla nascita il neonato vive in uno stato che potremmo definire autistico, è il cosiddetto narcisismo primario, in quanto non ha alcuna consapevolezza di tutto quanto lo circonda. Il neonato non ha consapevolezza del suo apparato psichico, è dominato dal principio di piacere. Questo significa che quando insorge un bisogno il bambino cerca la strada più breve verso il piacere. E questo percorso è quello dell'allucinazione. Il narcisista si trova in uno stato simile, in quanto allucina il partner, in senso metaforico ovviamente, proiettando su di lui tutto un mondo interiore che non vede chiaramente in se stesso. Allucinare significa creare illusoriamente l'oggetto del nostro desiderio, ciò che ci dà soddisfazione. Perché? Perché in quel momento noi non abbiamo a disposizione l'oggetto reale e allora lo fantastichiamo. sul piano concreto cosa fa il narcisista? Il narcisista vorrebbe essere autosufficiente, autonomo. Perciò il suo appagamento viene raggiunto in modo magico, come fa il neonato, quando per esempio la madre non è presente. Quindi allucina la madre o il suo nutrimento. Questo avviene attraverso una proiezione. Proiezione sull'altro di contenuti che l'altro non ha. Tutto questo contribuisce ad alimentare l'onnipotenza che il narcisista, come il bambino nelle prime fasi di vita, vive nella fase che Freud definisce come narcisismo primario. Naturalmente questo è un paragone che noi stiamo facendo. Le cose non stanno proprio così alla lettera. Le stiamo un po' semplificando per far capire bene il concetto. Ora, questo stato fittizio di soddisfacimento non può durare a lungo, ovviamente. Non è reale. Un'allucinazione non è qualcosa di reale. perché è superato un certo limite. Ovvero, quando il narcisista si accorge che il suo oggetto d'amore non corrisponde a quell'oggetto che lui aveva fantasticato, vive una frustrazione, una delusione. E da questa frustrazione ha luogo la disillusione connessa al principio di realtà. Quindi, quando il narcisista si accorge che il suo oggetto d'amore non è perfetto, inizia ad entrare in una sorta di disillusione graduale. I passaggi quindi sono questi. Principio di piacere, principio di realtà. Quindi, illusione, disillusione, onnipotenza, frustrazione e ritiro delle proiezioni. L'onnipotenza e la frustrazione costituiscono la base per l'accesso alla realtà e quindi per lo sviluppo di funzioni più adulte, più adattive, più mature. In pratica, la conclusione di tutto questo discorso è che il problema del narcisismo diventa quello di operare un passaggio graduale senza vivere una tragedia. un passaggio dalla fantasia alla realtà. Facciamo un passo indietro, torniamo alla relazione madre-bambino. Perché? Perché questo è un fattore cruciale in tutto il discorso, in quanto le cure materne sono importanti affinché possa attuarsi proprio questo processo di disillusione graduale. Le cure materne devono seguire la crescita e saper rispondere in maniera adeguata alle esigenze del bambino. Nella relazione tra la madre, che rappresenta un contenitore, e il neonato, che è il contenuto, ciò che acquisisce particolare rilievo è la capacità materna di recepire le angosce del bambino e di trasformarle e restituirle al bambino in una forma per lui comprensibile e gestibile. L'infante, nel corso delle interazioni con la madre, cosa fa? Interiorizza la capacità di svolgere questo compito. E allora può passare dalla fase dell'illusione a quella della disillusione. Questo, diciamo, è il quadro teorico che suggerisce un grande psicanalista di nome Winnicott, Donald Winnicott. Il percorso evolutivo, quindi, di crescita psicologica, dal momento della nascita fino alla relazione dell'adulto con se stesso e con il mondo esterno, viene visto come una progressione graduale dalla dipendenza infantile fatta di illusioni, di onnipotenza, di proiezioni, verso l'incontro con la realtà. Lo sviluppo psicologico che va, quindi, verso l'indipendenza dalla madre è qualcosa di graduale, come lo sviluppo fisico, come lo sviluppo delle funzioni dell'io. Qual è il compito della madre? Alla madre spetta il compito di fornire sostegno, di fornire gli strumenti necessari al bambino per assecondare l'evoluzione della sua individuazione, del suo, diciamo, anche programma genetico. Dunque, l'individuo si protende verso la propria individuazione che nasce da una frustrazione e quindi da una frattura o da un trauma, che di volta in volta comporta la separazione dall'oggetto, cioè la madre, e va verso un livello psicologico sempre più evoluto e raffinato. Questa è anche la funzione del terapeuta, appunto, nella terapia con il narcisista. Non vorrei aggiungere troppa carne al fuoco. Vi rimando a tanti altri video che troverete nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta, video dedicati al narcisismo, con casi clinici e tanta altra roba. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure consulenze telefoniche. Se volete richiedermi una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome e cognome e orari preferiti. Inoltre vi suggerisco di dare un'occhiata ai miei libri che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.